Il posto non è sicuro, la vita non sarà tranquilla, perché comunque la sicurezza non ce l'avremo. Chi ha affrontato comunque dei mutui, delle cose, perché aveva comunque un contratto a tempo indeterminato, a oggi cambia totalmente la nostra vita. Rabbia e determinazione da parte dei 32 dipendenti storici del centro di prenotazione unico dell'Asla 01, che oggi protestano davanti al San Salvatore dell'Aquila, e si rifiutano di firmare contratti proposti dal nuovo gestore privato, dei CUP delle quattro Asla abruzzesi, la GP di Trento, che ha vinto un bando da 52 milioni di euro. Contratti di sei mesi a tempo determinato, di cui due di prova accusano i lavoratori, che lavorano al CUP tramite una cooperativa da anni e con contratti a tempo indeterminato. La qualità del servizio che offriamo noi come operatori penso che sia efficiente. Dopo 12 anni di contratto non posso accettare questo contratto di sei mesi a tempo determinato. Il sitino è stato indetto dal sindacato UGL. I 32 dipendenti, dall'unedì prossimo, data di scadenza del vecchio contratto, potrebbero essere licenziati dalla loro cooperativa, e a quel punto il CUP potrebbe rischiare la paralisi con nessuno dietro gli sportelli. Decisivo potrebbe dunque essere un incontro indetto per il 3 giugno a Pescara con sindacati confederale e la nuova proprietà. O firmate o andate a casa perché tanto a noi non ci interessa. A parte proprio la violenza di queste affermazioni, ci sono delle leggi che non sono state rispettate. Dovevano riprendersi i lavoratori così come erano e portarli nell'AGP, da Capodarco a GP, punto. Non dovevano fare altro. Accusa dei lavoratori anche la direzione dell'ASLE, che si disinteressa l'avvertenza. Dall'ASLE che risposte ci sono? Nessuna, e questa è la vergogna. La vergogna vera. Dov'è l'ASLE che dovrebbe essere il garante massimo di tutto questo? Dov'è?